cari amici telespettatori benvenuti siamo di nuovo qui dallo splendido studio astronave del gruppo editoriale distante oggi la nostra astronave planerà già ride il nostro ospite per noi è un piacere immenso averlo anche perché è sempre stato un uomo di poche parole ma di grandi risultati è la storia della juventus ha vinto tutto è stato protagonista di un gol storico il giorno del mio compleanno quindi era voluto con l'atalanta che ha regalato lo scudetto alla juve diamo il benvenuto a mark juliano benvenuto mark ciao albise buonasera grazie per l'invito mark siamo noi che ringraziamo te per essere qui con noi anche perché stiamo parlando con uno dei protagonisti tra l'altro di una delle partite più pazze di una delle esperienze più pazze della nazionale italiana la famosa partita dove praticamente toldo parava tutti quanti i rigori quella spedizione europea che finì non come forse volevamo però mark non mi dire che questo tuo sorriso bello pulito non l'hai avuto anche in quella partita ogni qualvolta un olandese andava dal dischetto perché io avrei riso ogni volta in quella partita sono quelle partite che sai che bene o male per come è andata la porterà in porto è andata così una partita chi ha avuto dell'incredibile giocare in dieci per 90 minuti contro la squadra una delle squadre più forti che abbiamo mai incontrato o meno che abbia mai incontrato c'era tutti i numeri uno nel proprio ruolo è stata una partita a tratti imbarazzante che alla fine siamo riusciti a vincere e devo dire anche ne abbiamo avuto una stoccasione certo che loro davanti erano incredibili Mark quando ripenso a te l'abbiamo pagato in finale esatto diciamo abbiamo pagato in finale con una punta di sfiga perché come diceva il grande Marco Pantani che non c'è più la fortuna non esiste ma a volte la sfiga ci mette ci mette un po' il naso Marco ogni qualvolta parlo con te e ti vedo mi vengono in mente quegli anni meravigliosi del calcio italiano nei quali avevamo una galassia di difensori straordinari tu sei di un anno buono il 73 in quegli anni c'erano veramente difensori di livello assurdo mi viene in mente soltanto uno tuo coetaneo Fabio Cannavaro avevamo in esta c'era ancora Maldini che tirava la carretta eccetera eccetera ora ti faccio una domanda cattiva tu sei stato anche allenatore ma in Italia li vogliamo ancora grandi difensori come te e come gli altri citati perché pare quasi che difensori italiani forti ce ne siano sempre di meno si dice che dietro Bonucci e Chiellini ci sia il vuoto e tu con Chiellini c'hai anche giocato a dimostrazione che lui è un po' avanti con l'età Alvise questa è una domanda a cui non è facile dare una risposta il difensore italiano era il più ambito all'epoca perché veramente c'era una fornace di difensori degli anni 70 e anche degli anni 60 che erano i più forti ma la scuola calcistica difensiva italiana partiva già dell'insegnamento gli allenatori vecchio stabbo che prima insegnavano a difendere a creare il difensore poi il reparto si giocava ancora noi veniamo giocavamo ancora uomo quindi sapevamo cos'era la marcatura poi essendo molto esterofili abbiamo iniziato a importare i difensori qualcuno anche molto bravo devo essere sincero via via si è andata un po' a perdere la scuola italiana adesso non ti so dire il motivo sicuramente sono come il vino, come le annate abbiamo vissuto l'epoca di grandi difensori della mia età, dell'età precedente sto parlando dall'insegnamento di Giovaresi, Maldini, Ferrara non voglio dimenticare nessuno perché poi gli anni 70 siamo Onesta, Cannavaro chi c'è, tutti adesso non fare un nome mi sembra dare torta a qualcuno adesso poi non so, si è iniziato a importare difensori stranieri difensori magari a volte non validi come quelli italiani e si è andato un po' a perdere la scuola italiana ma si è andato a perdere più sul lato forse nel tatticismo che nel classico difensore italiano io a volte Marco penso a dare una risposta non è facile perché sicuramente i chellini che giocano ancora perché meglio di giocare stanno facendo grandi cose, i Bonucci stanno facendo bene non si è dato forse la possibilità a molti giovani italiani di difendere le grandi squadre perché come fai un errore subito vieni messo in croce vedo quello che è successo anche a Romagnoli, è stato messo subito in discussione magari dopo due o tre partite non all'altezza e hanno fatto giocare subito un altro difensore che era straniero Marco ma sai perché ti faccio Marco sai perché ti faccio questa domanda perché mi vengono in mente due giocatori come Ibanez e Luis Felipe che sono giocatori che sono addirittura papabili per una possibile convocazione con la nazionale italiana e sono giocatori che hanno una forza fisica straripante tu eri un colosso io ricordo delle partite dove c'era un dominio fisico pazzesco però sono giocatori che sono costretti a vivere di questo tatticismo cioè Sarri sembra un professore universitario che interroga Luis Felipe Ibanez quando ha il pallone tre piedi vorrebbe fare mille cose ma deve seguire un certo tipo di tattica cioè ci rivolgiamo a difensori stranieri che d'italiano hanno ben poco per questo parlavo di crisi del difensore perché con tutto il rispetto chiamare due giocatori che non sono italiani in difesa è un po' strano no? Sì è strano da pensare guarda quando stavo dicendo prima che i difensori si vedono poi si perdono si creano nel tatticismo del pro allenatore proprio questo stiamo andando a a vedere cosa succede alla Lazio un esempio che ha sempre già avuto una buona difesa una buona difesa di reparto ma anche singola e viene da da molti anni con Zaghi giocando a tre quindi i giocatori erano anche molto abituati ad andare sull'uomo mentre con Sarri l'abbiamo visto anche con la Juve Sarri fa guardare prima il reparto prima fa vedere ti dice guardate la palla e poi guardate l'uomo guardate l'allineamento difensivo rispetto rispetto alla palla e non rispetto all'uomo non so se mi capisci ma penso che tu lo sappia no 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 però la cosa che mi fa sorridere Marco è che penso che lui allini la difesa col mozzicone della sigaretta lui si mette lì tutti dietro il mozzicone guarda che io non posso criticare Sarri perché Sarri può darmi lezioni può dare lezioni a tanti è come uno sceglie la maniera di giocare Sarri vuole giocare in avanti vuole attaccare vuole creare per il gioco però la coperta rimane sempre corta perché se vuoi se vuoi se vuoi la linea precisa vuoi la squadra corta la vuoi in avanti qualcosa lasci mi ricordo i primi tempi di di Delict quando arrivo alla Juve ero abituato all'aia a stermi uomo contro uomo vedi Delict aggressivo a rembande sull'uomo e poi il resto del reparto ce l'aveva 30 metri dietro perché Sarri diceva al reparto di tornare a scappare indietro riunire la linea e poi attaccare e Delict dice ma dove sono capitato non sto vogliono anche di Cassani ma sono cose vere stiamo dicendo cose verissime il difensore il difensore Delict è il difensore alla Cannavaro nel senso potente d'anticipo aggressivo quello che un po' facevamo anche noi e ti ritrovi a essere imbrigliato tra virgolette nelle tattiche del tuo allenatore che dice no quando la palla è scoperta quando c'è arretrate riunite la linea difensiva e poi cerchiamo di conquistare la palla con il reparto e quindi Delict ha avuto grosse difficoltà e come sta avendo magari difficoltà adesso i difensori della Lazio con le idee di Sarri perché stanno praticamente giocando un altro tipo di calcio Mark è bello anche parlare di te dopo aver accennato naturalmente a quello che riguarda il calcio attuale perché io rimango sempre colpito dall'umiltà dei grandi una volta Dino Zoff mi disse ricordati che chi ha vinto tanto è umile e chi non ha vinto nulla che ha un tipo di atteggiamento refrattario al pubblico e alla voglia di raccontarsi e Zoff che è stato anche tuo allenatore nazionale aveva sicuramente ragione perché un idolo perché parlare con te come parlare con un amico naturalmente nel salotto di casa e mi immagino anche le battute soporifere di Zoff no scherzo naturalmente però Zoff era uno impostato dai era uno un lord era un fenomeno l'importante è che nel ritiro non gli avevano il gioco delle macchinine perché avevamo la sala giochi Zoff si è andato a fare l'allenamento che devo finire il quadro e lui con le macchine ma è guai che gli toccasse quel gioco lì ah quindi era un giocatore era un giocatore di tipo playstation si è affissato con le macchinine no proprio aveva proprio la sala giochi con i vecchi giochi tipo sala giochi vecchio stampo e lui si era fissato con questo delle macchie e non lo riusciva a levare di lì magari scaricava anche un po' l'attenzione ma fu un europeo un gruppo un allenatore uno staff era tutto così perfetto che non potevamo non fare un europeo così stupendo e purtroppo perderlo in quella maniera lì è stato brutto ero soltanto ricordi bellissimi ma solo ricordi bellissimi anche se abbiamo perso una maniera incredibile abbiamo pagato un unico errore in una finale in cui abbiamo dominato la squadra più forte del mondo in quel momento abbiamo costretto il giocatore più forte del mondo in quel momento che era Zizu a fare la partita peggiore e perderla in quella maniera a 30 secondi dalla fine una palla così se quel pallone fa lo stesso tragitto non va dove deve andare non succede quello che succede se lo fa altre mille volte quell'Angelo Bartesi non succede quello che è successo eppure purtroppo è successo prima di andare in pubblicità e poi torniamo subito per il rush finale vogliamo anche ricordare che il giocatore più forte del mondo a calcio è stato Zizu in quei tempi mentre il vero giocatore più forte di padel tra Bobovieri e anche Ronaldo che ogni qualvolta ti vede cade a terra non si sa il motivo e poi adesso è dura buttarlo giù e invece il più forte giocatore di padel tra Nicola Moruso Bobovieri e Marco Iuliano questo lo possiamo dire prima di andare in pubblicità quello naturale anche naturale va bene torniamo anche se adesso sono fermo e poi mi sono riuscito a stirarmi la vendesima volta giocando a padel quando giocavo a calcio non mi sono mai operato a padel mi sono operato due volte le ginocchie spalle e gomito bene quello che non hai perso in campo l'hai perso giocando a padel pubblicità e torniamo subito per il rush finale con Mark Iuliano cari amici siamo di nuovo qui dallo splendido studio astronave dopo la pubblicità Mark mi ha raccontato noi abbiamo un amico in comune che è Nicola Moruso di tutte le volte che Nicola perde a padel ma non pubblica le storie di quando perde vero? è una sua quando perde non dice mai niente solo quando vince perché ci sono dei momenti in cui giustamente Nicola che è un bravissimo ragazzo molto amico di Mark che pubblica quando vince poi ci sono dei periodi di vuoto che io dico ma starà giocando e invece ha perso contro di te eh mica una volta però è molto bravo Nicola rende molto bravo è agonista vuole sempre vincere mentre io non c'ho questa malattia della vittoria ma ho la malattia del gioco però fa bene ti tiene in forma vero? Mark ti tiene in forma a giocare a padel no? Molto molto finché non mi faccio male ancora puoi giocare puoi continuare a giocare la storia di Mark è una storia bella lasciatemelo dire perché è una storia tutta italiana e so che Mark capisce cosa voglio dire perché è una storia che premia il meridio di Bione Mark possiamo definirlo al 50% calabrese e al 50% campano dimmi se sbaglio come estrazione come crescita mi sbaglio? Sì non sbaglio mettiamoci anche un po' di basilicata e completiamo anche le scuole elementari l'ho fatte lì anche un po' di basilicata anche io l'ho fatta a potenza a quattro anni e quindi anche io sono innamorato e ti capisco quando la citi la basilicata però è bella perché la tua è una storia del sud una storia bella di un ragazzo che sui campi veramente polverosi di provincia riesce a conquistare il posto al sole eccolo qui mentre risulta con Bobo Vieri e con Iugovic Lombardo Pessotto Porrini Tacchinardi per il gol scudetto contro la Juve io sono un po' romantico so che brillano sempre gli occhi ad un amante del calcio e a un grande difensore come te quando rivede questo ma ti faccio una domanda tu una volta ti sei fermato a dire porca miseria quante cose che sono riuscito a fare guarda hai fatto tanto Mark hai fatto tanto tu ho fatto tanto ho lavorato tanto ho avuto la fortuna di incontrare anche delle persone che mi hanno mi hanno aiutato mi sono trovato a volte nel momento giusto con le persone giuste nel posto giusto mentre altre volte è stato il contrario quindi non è stato sempre è stato un percorso molto in salita ho avuto diverse volte diverse volte stavo mollando però questo mio carattere calabrese è uscito fuori diverse volte molto tesardo e avevo un obiettivo quello di quello di arrivare assolutamente perché sai noi ragazzi mediterranei non abbiamo molte strade quando quando non siamo fortunati ad avere famiglie famiglie che ci permettano di fare quello che vogliamo studiare lavorare avere il tempo di crescere mentre noi meridionali a volte dobbiamo crescere in fretta e abbiamo poche strade quello dello sport era l'unica strada che avevo e che tanti ragazzi hanno hanno avuto e non potevo mai mai decidere di non arrivare non esisteva non esisteva non arrivare a coronare il mio sogno perché era l'unica strada che conoscevo l'unica strada che avevo e anche nei momenti in cui le cose andavano bene mi ricordo finivo gli allenamenti già giocavo in serie B finivo gli allenamenti poi andavo sopra la provincia di Salerno sopra Campagna c'era una montagna andavo a correre la sera di notte andavo sotto la pioggia andavo a allenarmi ancora non perdevo qualsiasi momento mi allenavo perché dovevo migliorare qualcosa se mi mancava un lancio mi mancava un cross mi mancava qualcosa non andavo a lavorare dopo extra extra allenamenti ho avuto ho avuto la fortuna che quegli allenamenti mi hanno dato la possibilità di crescere ho avuto la fortuna poi soprattutto l'anno di Salerno con Dele Orossi che giocava un calcio a Salerno si giocava un calcio spettacolare Dele Orossi ricorda un po' Braccio di Ferro quando lo guardi in faccia un pochino un pochino Dele Orossi era un incubo Dele Orossi era un incubo perché già non mi voleva non mi voleva nessuno quindi non giocavo quindi talmente mi stava antipatico tra virgolette perché non giocavo io ho fatto di tutto per conquistarmi il posto in qualsiasi maniera ho migliorato tecnicamente ho migliorato la maniera di giocare di vedere il tipo di gioco sono cresciuto tantissimo e poi in coppia compresi il primo anno abbiamo fatto abbiamo fatto meraviglie il secondo anno poi in coppia con Grassadonia ho giocato ancora meglio e lì poi ho stato allenato il mio percorso con la Juve Mark è meglio ho cambiato il concetto di gioco del calcio Mark è meglio ho avuto Tarcisio Burnici come allenatore tra l'altro quello delle figurine ragazzi la prima figurina era di Tarcisio Burnici è lui che mi è difensore a marcatura uomo asfissiante a tutto campo sugli attaccanti della serie C del girone meridionale che erano tutti io ho 16 anni e mezzo 17 però eri già bello grosso però eri già bello grosso fisicamente ero un sandrone ma quelle botte che davo mamma quando il difensore poteva picchiare incontravo veramente gli attaccanti quella vecchia scuola del girone B che erano dei colossi dei molossi dei capoccioni e io non me li ho picchiati tutti ma è peggio ma è peggio una partita a carte con Paolo Montero o è peggio una seduta di allenamento di ventrone cos'è peggio è due cose impossibili mi hai citato perché Paolo è insopportabile è sempre stato insopportabile a livello fastidioso sai quando è fastidioso però grandi amici con te ha sempre detto come fratelli diceva lui come fratelli sì fuori dentro del campo bastava un occhiale per fare quello che dovevamo fare mi ricordo quando facevo finta di litigare in campo e vedevi l'attaccante con lo sguardo del terrore che si allontanava piano piano si allargava piano piano si allargava verso le fasce pur di non venire in mezzo perché ce lo mangiavamo nel senso figurato nel senso sportivo beh no Paolo se lo mangiava anche fisicamente probabilmente qualche morzetto secondo me Paolo è la persona più buona del mondo Paolo era fastidioso con noi non con gli avversari pensa che con gli avversari sembra che è cattivo pensa come era fastidioso con noi come era insopportabile e con Ventrone invece perché ricordiamo che i grandi successi della Juve di Lippi sono dovuti anche alla grande preparazione lasciamelo dire di un grande uomo di un grande preparatore come Ventrone ma Giambiero ha cambiato ha cambiato il calcio insieme ha cambiato quello che è la preparazione fisica del calcio ha modernizzato ha portato la forza ha portato il lavoro il sacrificio vero noi avevamo un momento noi avevamo tempo di far niente noi ci allenavamo e poi tornavamo distrutti a casa a dormire e ci svegliavamo ancora all'allenamento noi la mattina per chi voleva alle 7 eravamo in palestra anche alle 7 del mattino perché l'anno che siamo arrivati noi erano andati via Vialli Ravanelli avevano inculcato insieme a Ventrone il rambismo il rambismo che prima delle partite ci capitava di fare palestra prima delle partite cioè talmente eravamo carichi dovevamo scaricare in palestra prima delle partite perché eravamo in campo che avevi voglia di mangiare l'avversario perché eri talmente forte fisicamente avevi una preparazione così perfetta a livello psicofisico che la partita era il momento più rilassante della settimana giustamente e c'era la famosa campana della vergogna il primo che la suonava non ce la faceva e doveva schiccherarla papam è vero i bei tempi del rambismo ma quanti scherzi quanti scherzi era intoccabile quella campana appena si girava Giampiero c'erano i soliti burberi tipo Angelino di Livio gli toccavano la campana ero in pazzia perché non capiva chi la suonava mi voleva voltare tutti Mark cosa ti senti di dire in conclusione a Federico Chiesa perché quello che gli è accaduto è molto triste per lui e per il calcio italiano però diamo anche un messaggio di speranza non è un infortunio che ti compromette la carriera ma che probabilmente ti rallenta una crescita questo sì secondo me ti rallenta la stagione la possibilità soltanto di aiutare in questo momento la Juve e la nazionale italiana perché un crociato adesso se operato bene curato bene lavorato bene senza la voglia di strafare perché il problema del calciatore quando vuole strafare vuole anticipare i tempi per rientrare in campo la foga con le tecniche moderne un'operazione di crociato se non ha degli inconvenienti se non ha altri tipi di problematiche le recuperi torni in campo con la squadra dopo cinque mesi a sesto mese se sei in campo con una buona condizione fisica con una buona condizione atletica e puoi dare un contributo questo è un bene della Juve un bene dell'Italia e bisogna conservarlo per tanti anni e gli faccio vendere in bocca al lupo perché è un dispiacere enorme che un giocatore non in Rambadilaggio perché già in questo calcio è un campione va fermato e lo vedi tutte le partite che vuole mi piace perché tutte le partite non si risparmia è un leone è un leone da tutto da tutto ed è un esempio positivo anche per gli altri ragazzi che come lui con l'età sua cercano di di affermarsi è un bel esempio è un bel esempio per gli altri ed è un dispiacere enorme da tifoso Juventino non vederlo in campo non vederlo in campo Mark io ti ringrazio per essere stato con noi ti rinnovo i complimenti in pubblico perché ci vogliono perché per me la cosa bella e lo ribadirò sempre ho avuto il piacere di intervistarti più forte abbiamo citato Paolo che è stato anche da noi intervistato anche per il Daily Mail tra l'altro siete stati dei ragazzi dal cuore d'oro e i tifosi ancora oggi lo sai vi amano da morire i tifosi per voi farebbero di tutto perché siete stati dei veri guerrieri guarda per me non mi dici perché io sono uno di loro sono sempre stato Juventino malato nato malato Juventino ricordo tutte le partite della Juve ho pianto ho sofferto ho gioito prima da tifoso e pensa come calciatore è stata la gioia ogni minuto ho giocato con la mia squadra del cuore è stato un sogno mi dispiace solo di non aver potuto regalare il trofeo che mancava perché l'ho perso tre volte la Champions League però lì quando si parla di sfiga io ci sono sempre dentro ci sono sempre dentro Mark grazie ancora un abbraccio grande a te alla tua famiglia e speriamo che tuo figlio magari un giorno possa ripercorrere le tue orme un augurio se vorrà farlo il calcio non gli piace lui è un lottatore lui è un lottatore il fisico dal papà l'ha preso sicuro un abbraccio al grande Mark Giuliano alla regia e tecnici all'assistente di studio al mio editore Mino Distante e a voi che rendete tutto questo possibile alla prossima Aasha a a a a a a a a Autore dei sorrisi